Buongiorno, 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 sono tornati a fare qualche giro al cimitero, ho consigli di chialare la data di nascita e di muore scritta sulla lapide di quel cale sotto e di calcolare lo sanno che l'ha vivuto e dopo vi ho detto se vuoi altri ho visto la fortuna di vivere qui di lui, io ho fatto che lavorare al mio cimitero sono venuto fuori dal cimitero, dove contano perché ero fortunato, più di tanti di loro che erano già lì, per aver vivuto propite più di loro, allora questo prende tutto per ringraziare il Signore della vita che si ha, ma dopo è anche il fatto che poi si va in davanti e poi la cordella si scurta davanti, hai capito? Di modo che manco il team si ha davanti di noi e poi preziosi al davanti che è il team, di modo che si ha di vivere anche ora, di più di prima, di dare spessore al team, perché c'è molto, non piardisite stupidagini e cerint di voler ben, prendi tutto a sé e dopo a chiatris. Buona giornata e buona vita!